C'è un secondo arresto nella vicenda dell'accoltelamento di un 17enne italiano a Trieste lo scorso weekend. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario nel pomeriggio di mercoledì in seguito alle ulteriori indagini svolte dalla squadra mobile della Questura. È un 18enne kosovar con precedenti di polizia per reatti contro la persona, contro il patrimonio, resistenza pubblico ufficiale e molto altro. Nel proseguo dell'attività di indagine, dopo l'accoltelamento di sabato 12 ottobre ricordiamo che il giovane era stato colpito da più fendenti al petto e all'addome è stato possibile acquisire ulteriori elementi che hanno chiarito la dinamica dei fatti e consentito di accertare le responsabilità a carico del kosovaro che la sera del delitto era accompagnato dal minorenne nordafricano sottoposto a fermo. È venuto fuori che il 18enne, diversamente da quanto dallo stesso dichiarato e soprattutto da quanto affermato dal minorenne si è intervenuto attivamente nella lite, sferrando i fendenti al ragazzo di Cervignano. Dopo l'accoltelamento i due si erano allontanati mentre il nordafricano aveva fatto perdere le proprie tracce il kosovaro si era cambiato di abiti imbrattati di sangue per poi fare ritorno in piazza Goldoni dove era stato fermato e identificato. È da ritenersi che il 18enne abbia indotto quindi l'amico minorenne ad addorsarsi la responsabilità per i vantaggi giudiziari di cui quest'ultimo avrebbe potuto godere. Ma le dichiarazioni contrastanti, la visione delle telecamere della zona, le testimonianze raccolte e gli esiti di altre attività investigative hanno consentito di accertare sia il patto tra i due sia la materiale responsabilità del 18enne. Non solo una settimana prima si era verificato un episodio analogo. Due giovani transitando lungo la scala dei giganti si erano visti all'improvviso piombare addosso due ragazzi che sotto la minaccia di un coltello avevano intimato loro di non passare più per quei luoghi. I due farebbero parte di un gruppo più ampio di giovani kosovari e nordafricani riconoscibili da un tatuaggio sul collo raffigurante un Kalashnikov e il numero 507 numero che simboleggia la data del 5 luglio 1990 ossia il giorno in cui la Repubblica del Kosovo dichiarò la sua indipendenza dalla Repubblica di Serbia. I componenti del gruppo avrebbero individuato nella scala dei giganti il loro territorio sul quale esigere il riconoscimento delle loro prerogative da parte di quanti vi passino con intimidazioni e minacce se non la violenza.